Oggi pomeriggio il Bosco Didattico di Castelleone, come ogni seconda domenica del mese, era aperto al pubblico. Grandi e piccini appassionati della natura o curiosi avevano a disposizione oltre un chilometro di sentieri alla scoperta della vegetazione e della flora. Sul posto erano presenti volontari a disposizione per fornire informazioni più dettagliate ai visitatori. Nei laboratori del centro visite al coperto era possibile condurre esperimenti ed approfondimenti su tematiche specifiche. Consiste nel dare la possibilità al pubblico generico, anche non scolastico, di visitare questa struttura che è stata creata dalla provincia di Cremona per supportare le scolaresche nelle attività di educazione ambientale, potendo fare anche attività all'aperto e in un'area appositamente allestita per questo scopo. C'è la possibilità di fare la visita guidata con il supporto delle guardie ecologiche e del personale volontario di quello provinciale per poter approfondire, se c'è una curiosità in quel senso, alcuni aspetti che altrimenti forse non si coglierebbero facendo la visita autonoma. Comunque è del tutto fattibile anche la visita autonoma per fare una semplice passeggiata sui percorsi allestiti come questo che vediamo dietro di noi. Inoltre, presso la Cascina Stella erano allestite mostre fotografiche per illustrare i progetti recentemente realizzati dalla provincia. Ci sono anche delle mostre fotografiche che sono allestite appositamente per mostrare i progetti che la provincia di Cremona su finanziamento regionale ha svolto recentemente. In particolare c'è una mostra sui querceti che fa vedere delle attività eseguite a Romanengo nel Naviglio di Melotta, che è un'area gestita dalla provincia di Cremona, una riserva naturale, e un'altra mostra sugli aironi che riguarda attività invece svolte presso le cave danesi, che è un sito di interesse comunitario sempre gestito dalla provincia di Cremona.